La felicità e l'amore sono due parole che possono far parte del nostro vocabolario oppure le dobbiamo completamente cancellare perché l'egoismo, la cattiveria, il cattivismo, la globalizzazione, la migrazione, tutte queste cose diventano dei nemici quotidiani che non ci permettono di essere noi stessi. È un po' quello che ci rimane dopo le scorribande di questi giorni, duelli a distanza tra il sindaco di Palermo Orlando e il ministro Salvini e questi 40 migranti che restano a largo e che sono lì da un bel po' di giorni. Stuzzicato dai giornalisti, il cardinale di Palermo sulle orme di Papa Francesco, il cardinale Lorefice, ha detto delle cose che ci devono far pensare, che ci devono far riflettere. Dio ci ha detto che ogni uomo sul suo volto porta impresso il volto di Dio e quindi ogni uomo è nostro fratello. E poi i giornalisti hanno incalzato ma il sindaco di Palermo ha fatto bene, il sindaco di Palermo ha fatto male e lui ha rilanciato in maniera alta facendo capire che si può essere anche oltre e che l'amore può superare qualunque cosa. Ha detto i problemi ci sono e sono tanti ma se guardiamo al volto del fratello si possono risolvere insieme senza alzare muri. E poi ha detto ancora il cardinale Lorefice l'amore a volte deve essere cercato su terreni faticosi ma se lo si segue, lo si conosce, in esso si resta e ci si dimora. Quindi parole molto pesanti, parole che ci fanno capire che da una parte c'è l'amore, da una parte c'è la solidarietà e dall'altra parte c'è altro. C'è l'egoismo, c'è la voglia di affermare qualcosa, ci può essere anche il populismo, ci possono essere tante cose, tanti errori, tante cose che forse magari con l'amore anche la Corte Costituzionale può essere superata perché probabilmente non si arriva nemmeno a coinvolgerla. E in questo, sempre nelle ultime ore, è venuta fuori una dichiarazione di un novantenne, ma non un novantenne qualunque, un novantenne che si chiama Luciano De Crescenzo, napoletano, che con la sua solita fantasia del sud è riuscito a spiegare come lui poteva essere uno splendido ingegnere in una grande azienda e invece ha deciso di voltare pagina, ha deciso di fare lo scrittore, di fare l'autore, ha deciso di fare l'opinionista, ha deciso anche di farci ridere, di prendere la vita in un altro modo. E facendo un'intervista molto bella al mattino di Napoli, il giornale della sua città, ha detto spesso fa più male la paura di morire che la morte. La vita? Molti studiano per allungarla, io studierei per allargarla, ha detto De Crescenzo dall'alto dei suoi novant'anni. Ed ha aggiunto che siamo angeli con una sola ala, che possiamo volare solo se restiamo abbracciati. Un grande monito, soprattutto quando ci fa capire che ognuno di noi ha la possibilità di reinventarsi. Certo, dice De Crescenzo a novant'anni, ci vuole un pizzico di fortuna, ma se ci rendiamo conto di non essere felici dobbiamo fare tutto per concederci un'altra possibilità. E forse dobbiamo anche fare tutto per concederci la possibilità di amare e di essere anche diversi. Mi sembra un buon inizio, come intenzioni, del 2019.